però c'è un giocatore forte, è un giocatore forte, giovane 2003, tecnicamente bravo, veloce, sa giocare a calcio, vede la porta, calcia bene, secondo me è un profilo su cui ci si può lavorare E secondo te può sostituire Felipe Anderson? Ad oggi non può essere la stessa cosa, però è un giocatore che ha vent'anni, quindi secondo me è un giocatore che la crescita poi dipenderà quanto dall'allenatore, quanto lui riesca a superare, ha anche una personalità forte E' un giocatore da Tudor? Questo non lo so, non conosco Tudor No, no, mi sono espresso male, mi sono espresso male, è un giocatore dal modulo Tudor, modulo Tatt Sì, nel modulo ci può giocare, può fare uno dei quartisti sotto la punta, a piedi investiti, è un giocatore che sa giocare, calcia bene, è un giocatore molto interessante secondo me, può avere una grande crescita E DA invece? Dia è un giocatore che secondo me era il più forte della rosa, è un giocatore che ha già giocato in Europa, insomma, qualità molto forte, molto forte Anche lui è un giocatore particolare, faccio fatica perché poi l'ho trovato in una situazione, ti ripeto, che era già rotto il giocattolo per varie vicissitudini E quindi sai, è un giocatore che però Sì, va bene, anche ti stiamo qui a chiedere No, però l'anno prima, quando le cose andavano bene, credo che sia stato un giocatore che ha fatto la differenza, vuol dire che qualità è giocatore forte Ieri Deglio Rossi, ieri l'altro ieri, parlando di Diciana, ci ha detto, è un giocatore come tutti gli africani, troppo istintivo Può darsi, però ti ripeto, io perché batto sull'età? Perché a vent'anni chi ci lavora può ancora essere una persona, un allenatore che può incidere Sulla testa, sull'attenzione, sull'applicazione, su questo, anche perché è un francese, quindi è nato e è cresciuto in Francia Quindi ha una, secondo me, una particolarità più europea Poco africana No, no, lo può essere, lo può essere magari caratterialmente, lo può essere Non è detto che delle volte, io dico sempre questo, paradossalmente è meglio un attaccante che un difensore Per poter poi incidere Quanto pensi serva ad allenatore per poter dare il proprio approccio, la propria idea di calcio, il proprio stile E per dire, ok, questa è la squadra di questo allenatore Guarda, io facevo questo riferimento proprio per l'allenatore Ed è molto chiaro E tu guardi le prime nove o dieci squadre in Serie A Escluse il Napoli che ha avuto una stagione drammatica E la Roma che ha subentrato De Rossi Non c'è un allenatore al primo anno con la squadra Eh sì Quindi una stagione intera serve per... Io credo che bisogna capire, bisogna finalmente capire quando si sceglie un allenatore che va accompagnato nelle idee di calcio nel momento in cui lo scegli E va cercato di accontentarlo con i calciatori che hanno le caratteristiche per giocare Tutti quelli che sono arrivati a risultati, eh Sono anni, almeno due barra di più, che allenano la stessa squadra Un motivo che ci sarà È inevitabilmente Per tante cose Per conoscenza, per creare qualcosa, un'alchimia, per credere tutti in una situazione Per far sì che tutti si sentano protagonisti Tutti quanti rispettino l'allenatore Non ci sono possibilità di creare problematiche Eh, questo sarà pure un dato, no? Se no... E tutti quelli che invece cambiano spesso l'allenatore Poi vengono da stagioni che non fanno nulla Chi cambia l'allenatore spesso Qual è il modulo che piace di più a te? Ma io credo il 4-2-3-1 Che poi ha tante facettature Quindi... Molto simile al... A Tudor Guarda, quello che ti dico io principalmente A me piace la difesa a quattro A prescindere Anche se oggi va un po' fuori moda Ah sì Sono distanti a tre Però mi preferisco giocarmi la difesa a quattro individualmente Anche rischiando i due dietro